Ciao, benvenuto! Come ti chiami? Daniele! Lo sapevo già, ma te lo richiedo! Daniele, da dove vieni? Da Modena! Ah, sei qua vicino! Senti, Daniele, ho visto che sei venuto con un gruppettino di amici! Sì! Quindi ognuno ha scelto di fare questa pazzia? Sì, ha scelto uno per tutti! Per tu? Ah, chi ha scelto per tutti? Ho festeggiato un ragazzo che... Chi è che ha scelto? Tu hai scelto per tutti! Bravo, bravo! È il regalo di laurea, questo! Ah, quindi lui dovrebbe essere quello più convinto di farlo, in teoria, perché lui che ha scelto? Voi siete carichi? Sì! Tu sei carico? Un po' agitato, però... Va bene, dai! Allora, ci vediamo tra poco in aria, adesso ti lascio con Mattia, che finisce di imbragarti per bene! E tanto, guarda, cinque minuti e siamo su! Mi raccomando, sorridi a quando siamo in aria! Guarda a me e sorridi, non guarda giù! Se no, ti filmo la cabeça! Non è bello, dai! Ma che cosa siete tutti portughei? Eh? Siamo tutti portughei oggi, no? Dai, un mix di lingue, ci sta! Oh, divertiti eh! Speriamo! Prima è incominciare il copro perché deve fare il corso di postura con le nere di oggi! Tutto! 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 Ma a secondi! Com'è? Bebe! 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 Ok! Allora 10 secondi! Vai! No, attento la testa! Andiamo a secondi! Sì, anche quando sali stai attento alla sbarra! La pancia lui, vai! Eccomi! Comeensi! È si bene! No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no